Musica Mercoledì 23 gennaio ben ritrovati con l'edizione della sera del TGL News per tre volte dal 15 agosto 2018 al 15 gennaio 2019 l'isoccorso notturno si è alzato in volo per interventi nel nostro territorio in questi cinque mesi complessivamente in regione invece sono state effettuate 155 missioni per 166 ore di volo e 139 pazienti trasportati in ospedale la maggior parte dei trasporti 64 ha avuto come destinazione l'ospedale maggiore di Bologna gli obiettivi futuri dichiarati dalla regione sono quelli di potenziare ulteriormente le aree per i voli notturni e soprattutto garantire interventi sicuri anche in condizioni di scarsissima visibilità 2,48 milioni di euro per 45 comuni piacentini e quanto stanziato dal governo per mettere in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e più in generale il patrimonio culturale i fondi fanno parte dei 19,47 milioni di euro complessivi messi a favore degli enti locali dell'Emilia Romagna e che interesseranno un totale di 294 comuni Passiamo alla cultura, è stato presentato questa mattina il cartellone del Piacenza Jazz Fest tra le manifestazioni culturali più amate dai piacentini in programma quest'anno dal 24 febbraio al 7 aprile circa 40 giorni di autentica esperienza immersiva all'interno delle moltiplici sfaccitature della musica jazz la manifestazione ideata e organizzata dal Piacenza Jazz Club è diretta artisticamente dal presidente dell'associazione culturale Gianni Azzali tutti i dettagli sul nostro sito liberta.it Chiudiamo con lo sport, dopo tre partite e oltre un mese il Piacenza Calcio è tornato questo pomeriggio alla vittoria piegando non senza patemi il Gozzano grazie a due calci piazzati la punizione di Corradi e il rigore di Ferrari intervallati dal momentaneo pareggio giunto grazie a un'autorete sventurata di Di Molfetta decidono una sfida tutt'altro che spettacolare ma fondamentale per i biancorossi ai fini della graduatoria la gara tra Pistoiese e Propriacenza invece è stata rinviata la decisione è arrivata a poche ore dal fischio di inizio è stata assunta dal presidente della FIGIC Gabriele Gravina il quale ha disposto il rinvio di tutte le gare in calendario della società di presidente Maurizio Pannella e riservato ogni ulteriore provvedimento qualora perdurasse lo stato di criticità che si è ingigantito negli ultimi giorni questa è la nostra ultima notizia il prossimo appuntamento è con il TGL alle 19.30 buona serata